Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. Come avevo anticipato fin dal giugno scorso, quando partecipai al Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio di Parigi, si svolgerà presso l'aeroporto di Grottaglie dal 25 al 27 marzo 2020 la prima edizione della Fiera Mediterranea dell'Aerospazio. Il Marcello Arlotta dal 2016 è stato inserito nel Piano Nazionale Aeroporti, nella categoria degli aeroporti di interesse nazionale. Questo sito possiede tutti i requisiti per diventare la piattaforma integrata per la sperimentazione degli aeromobili a pilotaggio remoto, ma il riassetto funzionale dell'aeroporto includerà anche i voli di linea che andranno ad aggiungersi alle attività dell'industria aeronautica già in atto, come testimonia la collaborazione dell'Enac all'evento. Al centro della Fiera ci sarà l'evoluzione delle tecnologie nel settore dell'aerospazio, con una particolare attenzione alle tecnologie del volo senza pilota e a quelle satellitari ad esso collegate. L'evento si presenta come un villaggio animato da un nutrito programma di convegni e tavole rotonde. Nel villaggio le piccole e medie imprese innovative e le start-up si confronteranno con grandi gruppi industriali, istituti di credito e potenziali partner ed investitori internazionali, accomunati dall'interesse per l'evoluzione dei mezzi e dei servizi del volo senza pilota e delle soluzioni e tecnologie ad essi correlate. Inoltre, Lice, Istituto per il Commercio Estero, attraverso la propria rete inviterà alla manifestazione circa 20 operatori stranieri selezionati provenienti dai paesi che offrono maggiori sinergie con il settore di riferimento, interessati a sviluppare nuovi contatti ed esplorare opportunità di investimento o di partnership strategiche con le piccole e medie imprese e le start-up italiane presenti all'evento. Le piccole e medie imprese pugliesi che operano nel settore aerospaziale e o settori connessi allo sviluppo dei sistemi di volo senza pilota e dalle tecnologie satellitari interessate a partecipare all'evento devono compilare entro il 7 febbraio 2020 la relativa scheda di adesione unitamente al profilo aziendale reperibile sul sito www.internazionalizzazione.regione.puglia.it www.internazionalizzazione.regione.it